Su cosa si può agire per ridurre i costi? Beh, in questo momento è sotto gli occhi di tutti, no? I costi delle materie prime che sono ovviamente alle stelle. Posso agire su quello? Verosimilmente è complicato, nel senso che noi non controlliamo la filiera. È un qualcosa che rientra tra quella sfera che noi non possiamo controllare. Quindi diventa complicato ridurre i costi andando ad abbassare i costi di acquisto delle materie prime. Anche perché magari fino a un anno fa si poteva anche trovare un punto d'accordo con un fornitore oggi c'è talmente tanta richiesta che se non vendono a noi, figuratevi se hanno problemi nel vendere ad altri. Quindi diventa anche più complicato da questo punto di vista. Posso ridurre i costi andando a ridurre quelli che sono i costi di produzione? Sì, è fattibile. Ma di certo non è semplicissimo. Perché? Perché verosimilmente su grandi numeri ci sarà già un'organizzazione interna, ci saranno già dei flussi interni. È complicato, è difficile che si possa incidere su quello. E quindi in che modo posso ridurre i costi? Beh, partendo da questo qua, dei costi di gestione aziendali. Perché? Perché l'azienda è l'unica cosa che noi possiamo controllare. La nostra azienda è l'unica cosa che noi possiamo controllare. Non possiamo controllare tutto ciò che è al di fuori della nostra azienda, ma tutto ciò che è all'interno della nostra azienda noi lo possiamo controllare. In che modo? Beh, innanzitutto le aziende sono fatte di persone, no? Noi viviamo in un settore dove non siamo dei liberi professionisti. Se abbiamo un'azienda è perché abbiamo dei collaboratori. E quindi ci chiediamo ogni tanto quanto quei collaboratori sono davvero autonomi. Perché poi alla fine il succo è quello, eh? Cioè, noi oggi siamo qua, le nostre aziende vanno avanti senza di noi più o meno bene in funzione di quanto i nostri collaboratori sono autonomi. Cioè, noi oggi siamo qua, le nostre aziende vanno avanti senza di noi più o meno bene Cioè, noi oggi siamo qua, le nostre aziende vanno avanti senza di noi più o meno bene